E cominciamo a girare all'interno del Gusto Chic di Chieti Scalo, un locale frizzante, giovanile, che ha rianimato la Movida di Chieti. Uno special guest eccezionale, Ingrid? Direttamente alle uomini e donne, Francesco Monte. E da qui cominciamo a girare. Simone Gusto Chic sta avendo un grandissimo successo. Questa sera Francesco Monte, quale saranno le sorprese? Sarà un live, faremo molti live, anche nelle prossime settimane ci saranno i live dei Negramaro, molto seguito. Cerchiamo di movimentare Chieti Scalo con questi live, con questi eventi, anche a Pasqua. Non siamo fermi. Qual è il segreto del successo di Gusto Chic? Il segreto del successo di Gusto Chic è, diciamo, tra virgolette, la famiglia. Perché c'è l'impegno da parte di tutti di realizzare una cosa che a Chieti Scalo non c'è. Giorgia, anche stasera, special guest Francesco Monte. Una bellissima serata, come quella di Cristian Galella, si sta ripetendo. Francesco Monte scenderà fra pochi minuti, il suo locale esploderà. E questo successo, come stavi dicendo prima, lo dedico ai miei genitori e alla mia famiglia. Quali saranno gli altri ospiti? Allora, prossimamente abbiamo una DJ donna, ho chiamato Jessie Diamond. Il 21 farà la serata, quindi tutti qui il 21 per Jessie Diamond. E poi vedremo di invitare anche qualche altra donna, per, diciamo, per soddisfare anche l'uomo. Francesco Monte, l'idolo di tutte le donne. Oggi è la festa della donna. Ogni volta che vedo un'accoglienza del genere, mi sento pagato, mi fa piacere. Ci sono i pro e i contro di questa vita? Sì, ci sono i pro e i contro. Per quanto mi riguarda, io ho cercato di gestirla in una maniera possibile migliore. Cercare un po' di staccare quello che rappresenta questa situazione, che è un po', tra virgolette, un lavoro, anche se per tanta gente è difficile da capire, dalla vita reale. Cercare di non mischiarle troppo, altrimenti si perde di vista la realtà e si passa in altri contesti. Davide, direttore di sala del Gusto Chic. Noi ci siamo impegnati dal 31 di gennaio, con tanta professionalità, tanto impegno, tanta simpatia. nei confronti dei nostri clienti, soprattutto i nostri clienti giovani. Li vediamo molto combattivi, perché, insomma, è una situazione nuova per chi riscala. Simone Barbetta, The Voice. Una serata incredibile. Forse abbiamo un pochettino esagerato anche con la pubblicità, perché è stata una cosa pazzesca. E per finire, un augurio a... A Gusto Chic, a Weekend dintorni, veramente grazie a voi, grazie a Gusto Chic, grazie a tutti, a tutte le persone che sono venute qui questa notte, grazie ai nostri DJ, grazie alla proprietà, Luca Cornacchia, gli amici del Bafo, del Balù, del Gusto, grazie a tutti, veramente. Soprattutto a tutte le donne. Mi raccomando, tutti presenti ogni giovedì notte. Viale Abruzzo, 286 B. Cosa continuiamo a fare? Continuiamo a venire qui il giovedì sera e continuiamo a girare. Un augurio particolare a tutte le donne, buon 8 marzo, un bacione. E con uno speciale augurio da parte di Francesco Monta e tutte le donne, si conclude questo servizio di Weekend dintorni, all'interno del Gusto Chic di Chieti Scalo, una serata veramente di follia, grazie a questo special guest, ma anche grazie a tutto lo staff veramente meraviglioso. Ingrid, cosa possiamo aggiungere? Venite a trovarci a Chieti Scalo, 7 giorni su 7, pranzo e cena. Intanto Weekend dintorni, continua? Continuare.